Marvel vs DC, si è conclusa la lunga epopea in due episodi che abbiamo visto nelle scorse due puntate dello scontro fra universi, quindi Marvel vs DC, che poi era confluita, diciamo, era finita con l'unione di due universi che avevano formato l'Amalgam, che abbiamo esaminato, un universo che comprendeva entrambi, anzi entrambe, Marvel vs DC unite, con questi supereroi che erano dei mischioni meravigliosi, poi sono tornati a dividersi e tutto è tornato come prima, ma il nostro buon Access, ormai diventato il guardiano dei multiversi, ha detto che sapeva che sarebbe potuto ritornare a questo fatto degli universi che si incontravano, e quindi sarebbe stato sempre pronto a evitare che si restassero uniti, comunque a ridividerli, a controllare il flusso degli universi. Ci ha visto giusto, nel senso che dopo Marvel vs DC sono tornati ogni tanto a rincontrarsi un po' come facevano prima, quindi con entrambi consapevoli l'uno dell'altro, in queste storie diciamo fuori dal tempo e fuori dallo spazio. È il caso della storia di oggi, perché questa storia scritta e disegnata a John Byrne vedrà Batman e Capitano America incontrarsi innanzitutto in un universo in cui entrambi esistono tranquillamente, e soprattutto in un universo fuori dal tempo anche, perché sarà ambientata negli anni 40, quindi troveremo Batman perfettamente in azione come nei fumetti anni 40, e un Capitano America in azione durante la seconda guerra mondiale, proprio come i fumetti degli anni 40. Quindi Byrne ha immaginato un crossover fra i due personaggi, i due universi Marvel vs DC, ambientato negli anni 40, quindi sarà strano, sarà divertente un po' vedere che cosa ha combinato Byrne. Ok, si comincia, cominciamo così proprio subito. Allora, si comincia a Gotham City, anni 40, anzi gennaio 1945, quindi siamo anche verso la fine della guerra oramai, che sarebbe finita di lì a poco, nell'aprile, dopo lo sgancio della bomba atomica, su Hiroshima e Nagasaki, e l'argomento non è casuale, che sto tirando in ballo. Siamo a Gotham City, siamo a Gotham City, bellissima Gotham City, super gotica, un po' come il nome può ricordare. Siamo in pieno inverno, c'è il freddo, le strade semi-deserte, poca gente, infatti Byrne ci dice che la gente sta così tornando a casa, in tabarrata per via del freddo, cosa che ripiango, visto che fuori c'è un milione di gradi in questo momento, e un simbolo di speranza nel cielo, è il simbolo di Batman, perché qualcosa sta succedendo, qualcosa sta succedendo a Gotham City, perché quando il simbolo di Batman è acceso, significa che il pipistrello o deve entrare in azione o ci è appena entrato, quindi i pericoli si aggirano per le strade, e così è anche stavolta, infatti potete già notare come a sfrecciare per le strade, ecco qua, ci sia Joker, Joker sulla sua Joker mobile, terribilmente kitsch, ma molto anni 40, quindi insomma con quel faccione che sorride nella parte frontale dell'auto, meraviglioso, e in seguito dalla polizia, in seguito dalla polizia e da Batman, anche qua con la sua macchina anni 40, quindi questa specie di berlina, vecchio stampo, con le alette, adesso la vedremo meglio, Joker in seguito da Batman, ovviamente cerca di fregarlo buttando del liquido, dell'olio che dovrebbe farlo uscire fuori strada, proprio i trucchi classici anni 40, Berlino si è divertito a dare un tono molto classico alla storia, Batman ovviamente riesce a superare i trucchetti di Joker, come vedete, con delle spazzole, eccole qua, con delle spazzole che escono fuori dalla parte frontale dell'auto, e lui e Robin galvanizzati, dicono Joker non ci fregarà, tra l'altro vedete qua la Batmobile meravigliosa, Batmobile che ha avuto davvero, è uno dei modelli che davvero negli anni 40 Pipistrello ha guidato, oggi ovviamente non guiderebbe più una macchina simile con sto pennone gigantesco, e vabbè, insegue la Joker mobile fino ad arrivare al molo, dove Robin dice, boh, è fatta, abbiamo catturato Joker, ovviamente non è così, Batman lo sa che Joker ha sempre un trucchetto, e il trucchetto di Joker in questo caso è il più classico dei classici, ovvero un bel sedile iettabile, pum, che spara il nostro Joker in cielo, e dice addirittura ci vediamo nei fumetti, quindi minaccia a Batman e Robin abbastanza classica e abbastanza così, metatestuale, Joker si è salvato, ma qualcosa succede, perché la macchina di Joker esplode, quindi insomma Batman e Robin hanno inseguito il pagliaccio del crimine, non si sa che cosa avesse intenzione di fare, stava scorrazzando per le strade di New York, aveva rubato probabilmente qualcosa, e la macchina esplode, qualcosa che insospitisce un po' Batman, perché dice non è normale, non è un trucco molto da Joker, no, quello di un esplosivo così brutale, infatti come vedete fa un discreto boom, eccolo qua, con Robin che ovviamente sente etichettare Batman che lo salva all'improvviso, quindi Joker è riuscito a scappare, Joker è riuscito a scappare, e non ci sono più prove a suo carico, perché sono esplose, tranne un po' di plutonio che Batman raccoglie, vedete, con il suo graffiatore tipico di chi raccoglie le prove, prima che la macchina possa esplodere. Plutonio, altra cosa che secondo Batman è un po' sospetta, ok, che giocherà a giocare con gli esplosivi, però di questa portata sulla macchina non lo sa, insomma, sospetta che ci sia qualcosa in ballo meno legato solo al pagliaccio del crimine, perché quello a cui hanno assistito è un furto troppo classico per Joker, non c'è una scenicità dietro tipica sua, quindi i sospetti rimangono, ma le prove ormai sono poche, perché la macchina è esplosa, esplosa totalmente. Nel frattempo passiamo in Germania, ricordo siamo nella seconda guerra mondiale, questa storia è ambientata appunto in un Elseworld, dove entrambi i personaggi agiscono contemporaneamente negli anni 40, e troviamo ovviamente in prima linea contro i nazisti, assieme agli All in Commandos, che quella a me sembra proprio Dam Dam Duga nel baffuto arancio, troviamo Capitan America, Capitan America è segnato meravigliosamente da Byrne, che si lancia contro i nazisti, e tra l'altro contro un'arma particolare, molto particolare, che ora vi faccio vedere, cioè un carro armato più alto che largo, una roba da Miyazaki quasi, da giapponesi pazzi, io mi soffermerei un attimo su questo mezzo assolutamente fuori scala, classico mezzo tipico dell'Hydra, insomma, quindi insomma dei nazisti in formato super, a cui la Marvel ci ha abituato, guidati ovviamente dal Teschio Rosso, Teschio Rosso quando lo vediamo, però ci viene nominato, perché comunque all'epoca era lui a guidare la parte supereroistica dei nazisti, quindi insomma era il braccio destro di Hitler in qualche modo, anzi, in realtà il Teschio Rosso voleva un po' soppiantare il Führer, per cercare di diventare lui il vero dominatore della Germania. Quindi insomma, enorme carro armato, enorme carro armato, Cap cerca di studiare un po' per capire come poterlo abbattere, e ovviamente fa la cosa più banale del mondo, cioè trova il perno, trova il punto migliore dove, ecco qua, incastrare il suo scudo. Quindi ingranaggione vicino ai cingoli, scudo incastrato, scudo indistruttibile, lo scudo di Cap lo sappiamo è fatto, parte in Adamantio, quindi il metallo più forte del mondo, quello che ha Wolverine dentro le ossa, parte in Vibranio, il metallo spaziale che si trova pressoché in Wakanda, dove sta Pantera Nera, questi qua sono stati fusi assieme in una lega impossibile da replicare, perché poi la formula è andata persa, come tutte le formule tipiche dei supereroi, e quindi il suo scudo è indistruttibile, quindi non si rompe, ma ribalta un intero carro armato, che finisce col crollare, e insomma tutto il gruppo di nazi che lo stavano guidando viene subito catturato dall'esercito americano. Ma arriva un dispaccio, arriva un dispaccio dall'America che dice a Cap di tornare assolutamente a Gotham City. A lui e a Bucky Burns, il buon Bucky che qua non è ancora congelato, non è ancora diventato il soldato d'inverno, non è il Winter Soldier che ha spopolato al cinema, nel telefilm Falcon e Winter Soldier, quindi entrambi devono tornare negli Stati Uniti per un motivo molto importante, parecchio importante, perché se hanno richiamato Cap, che era in prima linea in guerra, vuol dire che c'è qualcosa di molto importante. Quindi i due accettano di buon grado, accettano di buon grado e prendono un aereo, prendono un aereo per Gotham City. Quello che accade però è che una volta arrivati a Gotham City, eccoli qua, con un aereo opposto, non possono atterrare, non possono atterrare, e qui insomma Bucky fa un po' la classica spalla ragazzino, rompi palle e dice com'è possibile che ci hanno richiamati dalla Germania che stiamo combattendo, e poi non ci fanno atterrare? Cioè c'è qualcosa di ancora più importante di noi che veniamo richiamati in America? e Cap dice sì, che evidentemente sì, se ci hanno richiamati, ma ora non possiamo atterrare, vuol dire che chi sta partendo è molto più importante di noi. Se non che improvvisamente lo stesso aereo che gli sta impedendo di atterrare viene preso dai terroristi. Quindi c'è una comunicazione rapida, lampo del governo, che dice attenzione, terroristi hanno preso l'aereo, dovete fare qualcosa, bisogna fermarli perché ormai stanno decollando. Infatti decollano e l'unico modo per riuscire ad arrivare all'aereo, idea di Cap, è quella di lanciarsi in volo. Quindi chiede al suo pilota privato, del suo piccolo aereo privato, di mettersi sopra, leggermente più avanti, in modo che anche con la spinta dell'aria si possa lanciare, ovviamente senza paracadute. Il guidatore dà ovviamente a Cap del pazzo, perché solo un pazzo lo farebbe, ma sappiamo che Cap fa questo e altro, quindi con un alloro di geronimo, come vedete Cap, si lancia sull'aereo sottostante, riuscendo ad aggrapparsi, no, con i suoi guanti in pelle molto solidi, all'ala della coda, insomma, l'alettone di coda dell'aereo, che subito accoglie Cap con degli spari. Quindi vedete c'è qualcuno, terroristi armati, cercano di sparare a Cap, che intanto si è aggrappato con una fune, e con una serie di sforzi, riesce ad aggrapparsi, riesce ad aggrapparsi, ma il vento e il fatto di dover evitare gli spari, impediscono a Cap di riuscire a restare sull'aereo. Infatti, come vedete, rimane sospinto, aggrappato così, mentre l'aereo turbina, e mentre ancora cercano di sparargli, quindi insomma, sembra una situazione disperata, Cap cerca di provare ad aggrapparsi in una delle ali laterali, ma è difficile, è difficile, non riesce, e anzi ha paura che se qualcuno distrugga la corda a cui è aggrappato, addio Capitano, insomma, rischia di cadere anzitempo nel mare congelarsi, come gli aspetterà nel futuro. A un certo punto, però, un attacco missilistico, insomma, una bomba, viene scagliata sull'aereo, viene scagliata sull'aereo, e sembra mettere fuori gioco chi gli stava sparando. Cap ovviamente si stranisce, dice chi è che sta attaccando l'aereo, non può essere di certo il mio aereo, perché non avevamo un aereo armato, e infatti chi è? E' il protettore di Gotham City, il caro vecchio Batman, che come vi dicevo qua, Capitano America conosce, perché ogni tanto, quando gli universi si rifondono, come succedeva nei primi team-up che abbiamo esaminato nelle prime puntate di Marvel vs. DC, i personaggi già si conoscono. Quindi, insomma, gli dice Batman, ah, Baron ce lo dice, infatti, i due si guardano, si sorridono, uno è il cielo, è il giorno, è la luce, Capitano America, e l'altro è l'oscurità, la notte di Gotham City, ma entrambi hanno questo cuore puro da protettore, infatti ce li disegno in questa maniera meravigliosa, Burn, no, super classica, davvero stile anni 40, comunque Batman ha salvato Cap, Batman ha salvato Cap, e ovviamente ragazzi, figuriamoci quanto ci vuole a Batman e Capitano America ad entrare in un aereo, eccoli qua, tanto con la bellissima inquadratura del Bat-plano, anche lui stile classico, con questo pipistrellone davanti sulla fronte, i due entrano nell'aereo e sgominano i terroristi, davvero in due secondi, bellissimo questa tavola che vi mostro, dove i due, infatti lo dice anche Burn, non è nemmeno una rissa, non è nemmeno, forse un assalto, dice, da parte di Capitano America, di certo non è una battaglia, guardateli come sorridono, e come a suon di sganascioni, sganascioni e scudate nel muso, riescono a sconfiggere tutti i terroristi, che poi ovviamente vengono interrogati, vengono interrogati per capire che cosa stessero volendo, anche perché Cap non sapeva cosa ci fosse in questo aereo di così importante, abbiamo detto che ha impedito pure a loro di atterrare. Dentro questo aereo, siamo negli anni 40, siamo nel 45, ragazzi c'è, c'è Openheimer, Openheimer in persona, uno dei realizzatori, forse il principale del progetto Manhattan, della bomba atomica, che qua non esiste però, qua c'è il progetto Gotham, Burn non ci dice cosa sia il progetto Gotham, ci dà un po' di mistero, però, insomma, fate due più due se non è il progetto Manhattan, qua è il progetto Gotham, bomba atomica, quindi gli Stati Uniti in questo universo strano, stanno progettando la bomba atomica non come progetto Manhattan, ma come progetto Gotham, e da lì partiranno gli aerei che sganceranno le bombe per, insomma, terminare la seconda guerra mondiale a tutti gli effetti. Comunque, Openheimer viene portato in salvo, Capitano America capisce che quindi c'è qualcosa in ballo di molto grosso, perché lui conosce, ovviamente, il progetto Gotham, perché lavorando per il governo, ovviamente, sa tutto quello che c'è dietro, e anzi, lo stesso Batman capisce che c'è qualcosa dietro, perché anche Batman, in quanto protettore di Gotham, è stato informato sul fatto che si sta, stanno facendo gli studi bellici sotto il punto di vista delle bombe, delle bombe. E, tra l'altro, dice, probabilmente, il furto di plutonio di Joker che ho sventato potrebbe essere collegato in qualche modo con questo dirottamento. Chi lo sa? Chi lo sa? Fatto sta che il governo, il governo degli Stati Uniti, sospetta di Bruce Wayne. Dopo che i due hanno salvato Penheimer e si salutano, quindi Batman e Robin vanno da una parte e Capitano America e Bucky dall'altra, Cap viene chiamato dal governo degli Stati Uniti, mentre, tra l'altro, vedete, nella prima vignetta c'è Bucky che si annoia come non mai, seduto nel corridoio, sembro io, quando accompagnavo boh mia madre a fare le visite mediche da piccolo perché non poteva lasciarmi a casa da solo e quindi rimanevo nei corridoi ad aspettarla, mentre leggevo fumetti, spesso erano fumetti Marvel, dentro gli viene detto guardate, deve esserci qualcuno di molto ricco che può sguinzagliare dei terroristi, noi pensiamo che dietro questa cosa possa esserci il miliardario Bruce Wayne, del resto noi non sappiamo, nessuno sa davvero come Wayne abbia potuto incamerare così tanto denaro negli anni, quindi deve nascondere per forza qualche segreto, così non si fidano di Bruce Wayne, un miliardario del loro stesso paese, Capitano America dice, vabbè, non è detto che comunque abbia rubato quei soldi Wayne, magari è una persona pulita, io stesso ho la fedina penale pulita, non è che tutti per forza dobbiamo essere marci dentro, però va bene, indagherò su Bruce Wayne per conto vostro, anzi, il governo dice, Cap, tu nei panne di Steve Rogers, ricordiamo che all'epoca, negli anni 40, non tutti sapevano che Steve Rogers uguale Capitano America, tu ti fingerai una guardia del corpo per Bruce Wayne, per via di questi, per proteggerlo dal Joker, che appunto è in città e sta facendo danni, ma in realtà con la scusa di proteggere Wayne, in realtà indagherai per capire se lui effettivamente conosce qualcosa sul progetto Gotham e se magari sta tentando di impadronirsi, magari è alleato con i nazisti, quindi insomma traditore americano. Un pochino, come si dice, un pochino scettico, Capitano America va bene, decide di indagare su Bruce Wayne, quindi accetta questo incarico governativo di fingersi guardia del corpo per capire, capire diciamo se Bruce Wayne è colpevole di essersi alleato con i nazisti. Come vediamo tra l'altro Bruce Wayne accetta non troppo di buon grado il fatto che Steve Rogers gli faccia da guardia del corpo e come vedete c'è Steve seduto nella vignettona in basso annoiatissimo mentre Bruce Wayne va con le donne, va a fare compere, fa le riunioni, va a giocare a squash, se ne va in giro in macchina, fa la vita del playboy miliardario tipica di Bruce Wayne e Cap ovviamente vede che non c'è niente di problematico, quindi è lì quasi per arrendersi, per dire torno dal governo e dico che Bruce Wayne non c'entra niente con i furti che sono avvenuti e con il tentato rapimento di Oppenheimer. Se non che, se non che, una notte, ora ve la mostro, una notte, una notte d'inverno come abbiamo detto siamo nel gennaio del 45, Cap sente mentre tiene d'occhio i due i due miliardari, il miliardario Bruce Wayne insomma e Dick Grayson quindi Robin li sente chiacchierare ma arriva solo alla fine del loro discorso. Trovata tipica un po' delle vecchie storie però però non sappiamo sta omaggiando un po' il periodo anni 40 quindi un po' più ingenuo perché Dick sta dicendo senti Bruce tu sai tutto del progetto Gotham che a quanto pare c'entra Oppenheimer Joker c'entra anche lui in qualche modo dimmi però cos'è. Bruce Wayne dice no tu sei un ragazzino non posso ancora dirti tutto è un progetto top secret però sappi che prima o poi i dettagli te li darò. I dettagli te li darò dobbiamo tenere d'occhio Joker dobbiamo tenere d'occhio Joker io gli ho messo anche una micro spia insomma voglio indagare su di lui stanotte tra l'altro so che dovrebbe avere un appuntamento il Joker quindi noi andremo a questo appuntamento Capitan America e ovviamente fa dobbiamo stare attenti che abbiamo Rogers alle spalle che ci sta ci sta facendo da spia ci sta sta cercando di capire se nascondiamo qualcosa perché Bruce Wayne l'ha capito subito essendo Batman che Steve Rogers ha qualcosa da nascondere che vi sta spiando in realtà Capitan America Rogers fuori dalla finestra sente solo la parte finale cioè dobbiamo stare attenti a Rogers e stasera abbiamo un incontro con Joker ovviamente Bruce usa incontro tra virgolette perché lui intende che vuole andare a fermare Joker ma Cap crede che Bruce sia alleato in qualche modo con Joker e quindi dice ok forse il governo aveva ragione quindi classico misunderstanding delle storie classiche di supereroi dove un qui pro quo rende gli alleati disalleati Cap in segreto si attacca alla macchina di Bruce Wayne e lo segue Bruce Wayne va alla Wayne Enterprises vi faccio vedere questa meravigliosa vignettona in cui c'è il palazzo della Wayne Enterprises e si dirige all'ultimo piano Cap che non ha problemi a scalare lo insegue lo insegue e arriva scalando proprio all'ultimo piano eccolo qua e appena vede che insomma Bruce Wayne sta controllando dei file probabilmente legati al progetto Gotham sfonda la finestra nella vignetta in alto in alto sinistra se vedete sopra la statuona quella d'oro c'è quella macchiolina verde e Cap che si sta arrampicando sfonda la finestra tanto vabbè io morirei di vertigine anche solo a guardare fuori da quella finestra sfonda la finestra e cerca di attaccare Bruce Wayne dicendo sei un traditore dello Stato tu sei in l'alleato di Joker allora sei tu che hai tentato di rapinare Oppenheim insomma lo insulta in tutti i modi e lo attacca Bruce risponde subito come vedete con salta dall'altra parte della scrivania con questo super calcione a due gambe e Capitano America ci rimane male dice ma un miliardario come lui come può conoscere queste tecniche i due cominciano a menarsi cominciano a scazzottarsi e a un certo punto dopo essersi esaminati a vicenda capendo che Bruce conosce certe tecniche arti marziali orientali quindi cose anche proibite è una tecnica che ho già visto da qualche parte allo stesso modo Bruce vede che non è un normale soldato Steve Rogers perché è arrivato su un piano così in alto scalando i due si sono affrontati sta usando delle tecniche riesce a tenergli testa cosa che nessuno riesce a fare nessun soldato addestrato riuscirebbe a tenere testa Batman tranne Capitano America e infatti infatti eccoli che dopo uno scontro no? di 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 combattimento ravvicinato i due intuiscono dall'uno dall'altro che ovviamente Bruce Wayne è Batman e dall'altra parte ovviamente il governo americano non poteva che veniva mandato Capitano America a controllarlo quindi i due si stringono la mano e si rivelano le proprie identità segrete quindi Batman scopre che Steve Rogers è Capitano America e che il Capitano America scopre che Bruce Wayne è Batman quindi decidono di allearsi cui procuro ha durato pochissimo ve l'ho detto che era un Marvel versus DC molto breve diventava subito un Marvel e DC i due si alleano si alleano e decidono di capire chi ci sia dietro il rapimento di Openheimer perché Batman dice Cap te lo dico non può essere Joker il mandante dietro tutto questo deve esserci qualcuno che lo sta in qualche modo governando anche se Joker non è facile governare non gli piace essere la pedina di qualcuno però un alleato un alleato che gli ha detto fammi rubare la bomba atomica e tu in cambio avrai qualcosa e infatti così è vediamo che in un classico magazzino malfamato era un po' che non tornavano i magazzini malfamati c'è Joker un po' arrabbiato che dice ci hanno sventato il piano è arrivato Capitano America ora non c'è solo Batman quindi insomma abbiamo due rotture di palle invece che una in giro per Gotham City e il mio capo il mio colui che insomma ci sta sovvenzionando e che mi ha promesso milioni di dollari e delle armi per tenere in scacco Gotham City sarà un po' incazzato perché ora mi chiederà il risponso della giornata dovrò dirgli che non siamo riusciti a rapire Oppenheimer chi è colui ma ovviamente l'abbiamo detto prima il capo dei nazisti dell'IDRA perlomeno che come vedete qua parla con Joker attraverso uno schermo molto vecchio stile quando arriva il momento di rivelarsi quindi di salutare Joker si toglie la maschera da da essere umano che aveva prima e sotto c'è lui ovviamente signori di Twitch mi dissocio dai simboli mostrati il teschio rosso con questo bel costumone nazistone proprio vecchio stampo che tra l'altro uccide in diretta un suo uomo che dubitava di lui e dice non c'è bisogno di dubitare dei miei piani se il Führer cattura e converte o convince chi non crede in lui io lo uccido direttamente quindi insomma più cattivo di Hitler lo stronzo del teschio rosso eh sì eh sì teschio rosso teschio rosso che ovviamente vuole mettere la mano su la bomba atomica vuole in qualche modo eh appropriarsi del progetto Gotham e sta usando come pedina anzi come aiutante Joker nel frattempo eh vediamo che in una eh a largo di Gotham City vicino a quella che sembra una base eh missilistica insomma no c'è un convoglio eh anzi c'è una dei soldati a guardia di un di un passaggio eh nel quale dovrebbe arrivare tra poco un convoglio militare soldati che a un certo punto cominciano a ridere sguaiatamente cominciano a ridere sguaiatamente questo è il convoglio anzi il il punto diciamo di di guardia cominciano a ridere e cominciano a ridere e sappiamo tutti cosa succede quando nella DC qualcuno comincia a ridere sguaiatamente ovviamente c'è di mezzo Joker infatti eccoli qua ridono a a crepa pelle cadono tutti no per via del gas eh e vediamo le gambe di Joker arrivare che ci dicono che ci dice sono tutti morti uomini prendete i loro posti e infatti eh poi arriva il convoglio vedete in basso viene fermato anch'esso dagli uomini di Joker che quindi si appropriano di qualcosa che viene trasportato dentro quel camion e ragazzi quella cosa è Fat Boy è Fat Boy che se non siete diciamo esperti non sapete nulla della seconda guerra mondiale era letteralmente una delle bombe eh sganciate su Hiroshima e Nagasaki no Fat Boy ragazzo crassoccio no c'era anche Fat Man c'era l'aereo Enola insomma eh la bomba Fat Boy sta venendo trasportata al alla base missilistica vicino a Gotham City ma Joker se ne appropria Joker se ne appropria nel frattempo eh esaminando gli indizi che aveva trovato anche sulla macchina Batman ha portato Cap e Bucky nella Bat Caverna eccola qua qui vabbè che meraviglia questa Bat Caverna ecco dove vedete c'è il Bat Bat Summergibile il Bat Furgone c'è il Bat Plano c'è la carta di Joker Gigante la Monetona Gigante che abbiamo visto anche in Marvel vs DC c'è il Tirannosauro insomma la classica Bat Caverna che spero un giorno mi portino al cinema come si deve per adesso non l'hanno ancora fatto Tim Burton i vecchi film qualcosa avevano accennato ma così mai io voglio questa Bat Caverna adesso dice una la Warner Warner accoglie le mie preghiere nella Bat Caverna insomma il quartetto studia un po' la situazione studia un po' la situazione e capisce appunto che Joker è controllato da qualcuno Joker è controllato da qualcuno e dice dobbiamo allearci dobbiamo esaminare Gotham City assieme per riuscire a capire in base agli indizi dove Joker sta colpendo e soprattutto chi può in qualche modo controllarlo o dagli gli ordini per poter mettere le mani sulla bomba loro non sanno ovviamente che in realtà sulla bomba ci hanno già messo mano nel frattempo il commissario Gordon chiama Batman e Robin ma Batman troppo occupato nelle indagini decide dato che lui conosce Gotham City meglio di Cap decide di mandarci Cap infatti guardate Cap e Robin entrano nel nel commissariato con questo Gordon davvero anni 40 quindi grassoccio Tarchiatella con i capelli bianchi che si sorprende dice Capitan America wow sei venuto tu al posto di Batman ti ha mandato lui lui dice sì spiegami cosa è successo mentre Batman tra l'altro è in giro per Gotham City a indagare e lui gli spiega quello che abbiamo visto prima cioè che un convoglio è stato fermato sono stati incontrati questi soldati tutti in preda morti con il sorriso quindi in qualche modo Robin dice ovviamente si tratta di Joker anche il commissario capisce che Joker è dietro a quello che è successo ma i due si domandano perché è attaccato dei militari perché è proprio in quel punto perché Gordon non sa niente del progetto Gotham invece Capitan America sì ve l'ho detto prima che a livello governativo Cap sa più cose Cap decide di fare il professorino decide di fare il professorino e infatti ecco qua fa vedere con il righellino addirittura che lui conosce bene cosa c'è dietro questa cosa perché dice che quel punto di Gotham se uniamo una retta parallela permette di arrivare poi direttamente a Washington quindi loro dicono cioè lui spiega che non è un caso se ci fosse un convoglione lì vicino a Gotham perché c'è una base missilistica segreta in cui stanno portando avanti il progetto Gotham e una linea retta da quel diciamo linea d'aria da Gotham in quel punto preciso dove il Joker appunto rubato Fatboy a Washington permetterebbe un attacco missilistico preciso quindi non svela ovviamente della bomba atomica al commissario commissario Gordon ma ci fa intuire da noi lettori che ha capito che Joker vuole lanciare un'atomica contro Washington quindi c'è per forza qualcuno pro nazista che vuole attaccare gli americani con la sua stessa arma ed è per quello quindi che ha deciso di rubare la bomba proprio lì Tony Doctor Doom benvenuto tra l'altro in chat fino a qualche settimana fa si cercava il nazionale di calcio della Germania su Google su Wikipedia ti trovavi una bella sorpresina spero non una bomba atomica Tony Doctor Doom ma forse qualcosa di inerente comunque nel frattempo mentre Batman capisce che un attacco verso Washington sta per partire da Gotham City noi passiamo a Batman e Robin passiamo a Batman e Robin che tra l'altro stanno arrivando con una Batmobile in un magazzino abbandonato il classico magazzino abbandonato dove in teoria Joker forse si sta muovendo con i suoi uomini perché Batman ha visto che lì c'è un movimento strano c'erano troppi teppisti sgherri bande un movimento strano di criminali per per Gotham City anche per le forze del Joker tra l'altro come vedete c'è anche un commentino di Bucky che dice bella macchina Batman forse non adatta alla guerra perché se sui campi di battaglia non resisterebbe un minuto ma Batman dice certo questa Batmobile è progettata per una diverso tipo di guerra una guerra urbana tanto che spegne tutte le luci e ci viene mostrato nella vignetta in basso a sinistra degli infrarossi permettono a Batman di muoversi al buio per non farsi notare anche con il motore spento praticamente una macchina stealth una macchina stealth quindi insomma Bucky un po' si ricrede era un po' sfacciato contro contro il il cavaliere crociato il crociato di Gotham City arrivano a un magazzino tra l'altro c'è Bucky che fa una battuta del tipo oh ma sembra che ogni magazzino sia fatto apposta per i super criminali in effetti anche in Marvel vs DC in tutti gli altri episodi abbiamo visto che i magazzini sono sempre stati occupati da criminali e Batman dice guarda Gotham City ogni magazzino è fatto per i criminali cioè non so nel resto del mondo ma qua non è una battuta è effettivamente così quello scemo di Bucky schiaccia il pulsante un pulsante per terra vedete quel bip e subito allerta apre botto le cose arriva una masnada di guerrieri insomma di di sgherri che affrontano i due e loro pensano siano uomini del Joker non sono uomini del Joker ma di qualcuno che conosce molto bene Bucky infatti a scagliare tutti questi sgherri e anche tra l'altro del gas che stordisce immobilizza anzi in teoria fa svenire i due guerrieri della giustizia è il teschio rosso è il teschio rosso che ovviamente se la ride mentre arriva questo gas che in teoria dovrebbe far svenire i due personaggi infatti così succede i due svengono e vengono si risvegliano anche qua classico Batman style d'altri tempi ma anche anche in generale Stati Uniti style quando un cattivo ti rapisce come James Bond ti lega il tavolino quindi eccoli qua entrambi che rinvengono su questo tavolino questo tavolino e viene accolto vengono accolti tra l'altro dal teschio rosso in persona che dicono ah qua Gotham teschi cosa ci fai qua lui dice tu lo sai Batman che cos'è il progetto Gotham tu lo sai qual è il mio piano l'hai capito io voglio rendere la Germania migliore insomma le solite frasi da imbecille nazista e tra l'altro sotto il tavolino viene montata una bomba in puro stile super cattivo quando il tavolino si abbasserà completamente la bomba esploderà la bomba esploderà e infatti mentre il teschio rosso si allontana così sembra succedere grossa esplosione che fa saltare per aria all'intero magazzino quindi insomma super botto e Batman e Bucky sono morti lo dico così perché lo sapete che insomma non sarà non sarà mai così nella vita però vabbè facciamo finta di crederci come dice il teschio rosso che chiede tra l'altro di fermarsi per ammirare l'esplosione e dire è fatta l'abbiamo uccisi il perché di questa cosa poi la capiremo del perché questo modo di agire un po' così diciamo che il teschio rosso vuole un po' far vedere a Joker che anche lui sa essere artista nel suo modo di comportarsi va meno al dunque poteva sbarazzarsi di loro in maniera più classica ma ha voluto fare questa cosa della bomba delle galli torniamo torniamo a Cap e Bucky torniamo a Cap e Bucky che nel frattempo sono andati a indagare per capire cosa è successo al molo dove qualcuno ha rubato una barca per dirigersi probabilmente alla alla base missilistica a largo di Gotham City per sparare come ha detto Capitano America poi i missili su Washington qui trovano delle persone che sembrano morte per via del gas di Joker Cap però vede questo colorito rosso strano infatti Robin dice strano non ha mai colorato di rosso le facce Joker forse c'è una nuova arma un nuovo tipo di gas Cap dice no il colpevole non è lui questo colorito rosso questo aspetto un po' da teschio mi fa capire che c'è qualcuno di mia conoscenza quindi insomma sali subito in moto perché dobbiamo andare a cercare questa base missilistica e capire cosa c'è dietro ovviamente non lo dice apertamente perché non lo conosce Robin però è palesemente il teschio rosso palesemente il teschio rosso e qua Cap deve un pochino aprirsi anche con Robin e spiegargli la cosa del progetto Manhattan e dice guarda è questa bomba nucleare quindi probabilmente l'intenzione di teschio rosso è quella di lanciare dei missili contro Washington e prendersi i meriti quindi insomma far finta che sia un attacco da parte della Germania nazista perché l'America non sa del progetto Manhattan è un progetto segreto ho detto progetto Manhattan volevo dire progetto Gotham perché qua si chiama progetto Gotham non lo sanno dell'esistenza della bomba nucleare quindi se Washington viene attaccata il teschio rosso i nazisti possono prendersi tutto il merito nel frattempo è vero Robin dice anche ma perché se Joker ha rubato Fat Boy quindi la bomba poi vuole andare a nella stessa base missilistica per armare l'aereo che originariamente era prevista per armare Fat Boy dovrebbe andare da un'altra parte ma in realtà Capitano America dice no il piano di Joker è proprio questo cioè rubare il convoglio ma poi andare nella stessa base dove il convoglio sarebbe dovuto partire con l'aereo insomma con le bombe perché è il posto dove meno ci si aspetterebbe un attacco e infatti così succede vediamo in basso la base dove deve partire l'aereo con Fat Boy che poi originariamente nella storia sarebbe dovuto andare a bombardare Hiroshima qua invece anche qua insomma le guardie cominciano a ridere e Joker si infiltra tranquillamente nel convoglio nella base si infiltra nella base arriva all'aereo del Teschio Rosso e i due si incontrano arriva all'aereo del Teschio Rosso e i due si incontrano eccoli qua si incontrano tra l'altro Teschio Rosso per la prima volta si rivela con quell'aspetto a Joker perché fino a prima i due avevano parlato ma il Teschio aveva sempre una maschera scende dall'aereo e Joker gli dice ok che io sono vestito strano ma Carnevale è finito perché sei vestito così e lui dice no questo è in realtà il mio vero aspetto questa è la mia faccia e questo è quello in cui credo io sono il braccio destro di Hitler e lui dice sei un nazista non stai fingendo non è un costume quello è il tuo vero aspetto mi sono alleato con i nazisti perché Teschio Rosso non sapeva no Joker non sapeva niente di questa cosa un po' folle vabbè però ingenuità anni 40 e il Teschio dice certo io ho scelto te Joker perché secondo me sei un prototipo di nazista perfetto ma Joker che come dico sempre io in realtà è l'americano medio intriso di follia e ha cresciuto in maniera esponenziale dice io sarò un pazzo ma un pazzo americano non sarò mai un nazista e tenta di uccidere Teschio Rosso proprio così d'amblè quindi sta per estrarre qualcosa fuori tutti si spaventano il Teschio dice ah peccato no che uno come te non vuole unirsi a noi vabbè tantomeno non avrò nemmeno bisogno di darti i soldi darti i larmi che volevo muori anzi entrambi si urlano muori e si lanciano l'uno con l'altro il proprio siero velenoso insomma la propria formula quindi la formula Joker era la formula Teschio Rosso la formula Red Skull solo che sopravvivono e infatti si stupiscono del fatto che nessuno dei due stia morendo stia diventato rosso stia ridendo no perché le loro formule sono troppo simili essendo troppo simili loro stessi essendo immuni alla propria formula così tossiscono un po' perché si sono buttati sabbia praticamente negli occhi no nel naso ma non succede niente non succede niente e allora il Teschio Rosso dice vabbè niente formula dovrò usare le maniere spicci anche un po' brutali colpo sulla nuca a Joker e Joker sviene quindi insomma abbiamo avuto anche una defezione da parte del Joker che non vuole allearsi con i nazisti pazzo sì ma nazista no ovviamente viene rapito viene rapito anche lui è legato e portato sull'aereo mentre l'aereo decolla quindi vedete aereo che decolla Joker che comunque era la prova no? per il Teschio Rosso viene portato sull'aereo dicendo vabbè ci sbarazzeremo di lui magari lo convinceremo ad allearsi con i nazisti se no pace e amen lo buttiamo nell'oceano lo uccidiamo mentre stiamo lasciando Gotham City l'aereo parte ma viene subito raggiunto ovviamente dal Batplano o Batwing eccolo qua aereo di Batman il Teschio Rosso si stupisce dice Batman solo lui può guidare quell'aereo ma era esploso con il magazzino come è successo come è possibile e Batman qua spiega Capitano America e a Robin che erano ovviamente dall'altra parte a scoprire le macchinazioni del Teschio a scoprire che sarebbero partiti proprio da quella base spiega come ha fatto semplicemente Batman innanzitutto sapeva che il Teschio Rosso avrebbe voluto fare una specie di scenetta per sorprendere anche un po' Joker per far capire che era pazzo forse più di lui quindi non gli avrebbe mai sparato ma gli avrebbe legati gli avrebbe fatto una trappola stile super cattivo seconda cosa sapendo che probabilmente avrebbe voluto immobilizzarli aveva preparato dei respiratori che hanno impedito al gas che abbiamo visto prima di agire completamente quindi Bucky era svenuto completamente Batman no non essendo svenuto completamente ha finto di essere svenuto se l'ha lasciato trasportare e legare nel magazzino ma ha tenuto i muscoli in tensione quindi le corde che lo hanno legato una volta che lui ha rilassato i muscoli sono trovate un po' un po' più sciolte quindi ha finto di essere stato catturato ma si è subito liberato appena Teschio Rosso se n'è andato Teschio Rosso non è rimasto ovviamente perché la bomba sarebbe stata troppo forte quindi mentre Teschio Rosso se ne andava Batman si liberava e salvava anche Bucky metodo un po' struso questa cosa di prevedere che non gli avrebbero mai sparato siamo nei fumetti siamo nei fumetti anni 40 Batman era abituato a essere legato da Joker nelle trappole peggiori che si siano mai viste quindi insomma la sua preconcezione della situazione nella sua precognizione lo ha lo ha reso salvo lo ha reso salvo dall'altra parte anche Cap ha avuto un'intuizione del genere sapendo anzi intuendo con Righellino che Joker sarebbe andato in quella base lì ha finto di farsi attaccare di lasciare che Joker si impadronisse della base quindi ha ordinato ai militari del governo di farsi sopraffarre quindi non sono morti quelli che abbiamo visto all'entrata della base della base missilistica gli ha dato anche a loro dei dei respiratori insomma per sopportare la il gas di Joker e questi hanno finto di morire quindi hanno cominciato a ridere sono buttati per terra e Joker ha creduto di entrare in segreto questo ha permesso a Batman e il suo gruppo poi quindi di inseguire l'aereo di capire dove l'aereo fosse infatti lo trovano subito a largo dell'oceano e lo attaccano quindi attacco di Batman Robin e di Bucky e di Capitano America sul sull'aereo di Teschio Rosso come qual è il metodo migliore per attaccare un aereo vabbè nelle storie classiche degli anni 40 è quello di agganciarsi sopra con delle ventose e così succede super ventose sull'aereo boom aereo che viene così subito arpionato in qualche modo e ovviamente distruggere il tetto dell'aereo con una sega insomma con un laser il teschio rosso vede quello che sta accadendo ecco vedete qua quindi si vede forare il soffitto con un laser decide il tutto per tutto quindi attiva i propulsori massimi perché l'aereo comunque è un aereo nazista di stampo nazista che è arrivato a Gotham City quel che vedete nella seconda vignetta sono i propulsori che partono quindi riesce a partire e a sbalzare via il il batwing nel frattempo però quindi all'ultimo prima che l'aereo venisse sbalzato via Cap e Batman erano riusciti a entrare lasciando nell'aereo da soli nel batwing Batman le due spalle quindi Robin e eccoci qua e Bucky eccola qua quindi vedete dal buco arrivano Batman e Capitano America ma i poveri Bucky e Robin sono rimasti nell'aereo però dice Robin dovrebbe essere capace di manopalare l'aereo quindi stiamo tranquillo capo noi pensiamo ai nazisti cominciano una serie di lotte di botte tanto c'è pure una tizia tra i nazisti quindi non solo uomini al servizio del teschio rosso i due cominciano facilmente a sopraffarli mentre intanto come vedete in qualche modo Robin riesce a tenere a bada il batwing i due si stanno per scontrare insomma i due riescono a salvarsi e nell'aereo Batman e Capitano America vogliono affrontare il teschio rosso che nel frattempo si dà la macchia tipico dei nazisti a fugarsela e si chiude con una vetrata nella zona di lancio della bomba e qua vediamo finalmente Fatboy eccolo qua con un dato di scrittina scritta sopra sulla scocca diciamo della bomba Fatboy che sta per essere lanciato sta per essere lanciato ma insomma il teschio rosso perde tempo come sempre per indicare il suo piano cioè quello di attaccare Washington e di prendersi i meriti come aveva previsto Capitano America e mentre perde tempo classica scena il nemico perde tempo a dire il suo piano l'eroe ne approfitta quindi pugnone di Batman che spacca il vetro e ferma così insomma il lancio no della lo sgancio della bomba e nel frattempo Cap mena i piloti e devia l'aereo perché mentre i due parlavano mentre il teschio rosso spiegava il suo piano Capitano America aveva già cambiato rotta l'aereo portandolo lontano da Washington e verso il mare verso l'oceano quindi insomma anche se la bomba venisse sganciata non beccherebbe Washington non beccherebbe Washington e chi tra l'altro diciamo vuole diventare il vero salvatore della situazione è qualcuno che è rinvenuto nel frattempo ovvero Joker Joker fa partire la bomba dice sganciamola qua nell'oceano per impedire che tu possa riportare l'aereo a Washington con tra l'altro un teschio rosso che si sorprende fa Joker e lui dice ovviamente io sono un criminale ma non sono un americano non sono un nazista parte la bomba ed entrambi entrambi durante una collutazione ci finiscono sopra ci finiscono sopra perché ovviamente il teschio rosso vuole a tutti i costi evitare che la la bomba non venga sganciata perché vuole provare ancora a riportare l'aereo su Washington e il risultato è questo cioè entrambi cadono assieme a Fat Boy nell'oceano ebbene si bomba atomica e due super criminali a bordo due super criminali a bordo la bomba ovviamente impattando esploderà sicuramente quindi Batman e Capitano America uniscono le loro forze come vedete per riuscire a far cambiare rotta all'aereo che comunque ha i comandi semi bloccati perché non c'è più nessuno che lo sta guidando è entrato in blocco all'aereo del teschio rosso ma i due riescono con la super forza di Capitano l'estrema forza di Batman a lanciare l'aereo in alto per non beccare completamente l'esplosione della bomba e poi a ridirezionarsi i dritti per poter andare il più lontano possibile dall'esplosione sperando dicono che l'aereo nazista di tecnologia super nazista dell'IDRA progettato per resistere a qualsiasi cosa resista all'esplosione della bomba e così succede tra l'altro con questa esplosione meravigliosa un burn in stato di grazia praticamente fotorealistica esplode la bomba atomica quindi non esplode tanto su Hiroshima e Nagasaki non sappiamo poi cos'è successo in questo mondo se la guerra è andata avanti nello stesso modo ma esplosione nell'oceano l'America è salva dovrà forse nascondere o svelare al resto del mondo questa cosa del progetto Gotham e chi lo sa teschio rosso e Joker morti probabilmente per via dell'esplosione atomica qua vediamo tra l'altro l'aereo che resiste alle vibrazioni quindi l'impatto comunque che arriva con una bomba del genere vero terzo film di Batman di Nolan però resiste grazie alla super tecnologia nazista quindi per una volta i nazisti hanno fatto qualcosa di utile subito i due si contattano qui a radio con Robin e Bucky che ovviamente gli dicono siamo salvi siamo riusciti a far atterrare l'aereo che era messo male in un campo qua vicino a Washington quindi tutto ok tutto ok tutto salvo abbiamo salvato abbiamo salvato l'America e ovviamente Batman dice ci siamo anche liberati di Joker e di Batman e del Teschio Rosso tra l'altro ma Cap lo guarda e dice non ci credi nemmeno tu vero lo sai che torneranno lo sai che torneranno però per adesso l'America è salvo anzi il mondo è salvo dalla follia nazista del Teschio Rosso epilogo epilogo tra l'altro un epilogo molto particolare di questo mondo che è letteralmente appunto un Elseworld un mondo alternativo perché è ambientato negli anni 40 vediamo vent'anni dopo Dick Grayson quindi Robin diventato Batman quello è Dick Grayson non è Bruce Wayne e al suo fianco con i capelli arancio è Bruce Wayne Junior un nuovo Robin quindi abbiamo questo questo strano Robin 2 questo Dick Grayson cresciuto diventato Batman e non Nightwing come nei fumetti insomma è avvenuto quello che sarebbe successo dovrebbe succedere nel futuro cioè che Batman ormai vecchio passa il mantello a qualcuno in questo caso il primo Robin e a largo tra l'altro degli Stati Uniti trovano un blocco di ghiaccio un blocco di ghiaccio che è Capitan America quindi come nei fumetti poi Marvel o nei film se avete visto al cinema i film di Capitan America viene rinvenuto Cap viene rinvenuto Cap vediamo anche un Bruce Wayne vecchio vedete là in basso a sinistra che accoglie poi nella Batcaverna questo Cap congelato assieme a Robin Junior e a un Alfred oramai invecchiato e gli dice guarda Cap sei rinvenuto nel tempo giusto perché il mondo si è popolato di altri cattivi parentesi mentre lo stavano cercando cioè mentre hanno trovato Cap loro in realtà stavano cercando Joker Junior quindi comunque un Joker anche lui allievo comunque discendente di Joker e l'hanno trovato quindi per caso Capitan America l'hanno scongelato ma gli dicono sei rinato nel tempo esatto quindi tutti sorridono e tra l'altro Burn ringrazia Roger Stern in basso a destra nella vignetta per aver avuto l'idea di questo strano epilogo di un di un mondo alternativo dove negli anni 60 Cap è stato scongelato ma giustamente Batman era invecchiato quindi c'è un nuovo Batman si conclude così questo bizzarro e old school capitolo di Marvel vs DC che ha visto incrociare Batman e Capitan America in versione Golden Age quindi insomma un esperimento strano ma molto divertente secondo me è disegnato benissimo molto classico che ci ha fatto respirare un po' le atmosfere classiche dei supereroi di quegli anni degli anni 40 e allo stesso tempo ci ha anche un po' raccontato dell'America della bomba atomica del segreto del progetto Manhattan qua trasformato in progetto Gotham prossimo prossimo crossover vedrà L'Uomo d'Acciaio e Silver Surfer quindi avremo un bel Superman e Silver Surfer settimana prossima e proseguiremo per un paio di settimane con questi incontri eroe ed eroe che ogni volta poi anche se non viene detto espressamente vengono divisi dal buon access ma avremo modo di rivedere anche access e di rivedere i due universi scontrarsi nelle prossime puntate grazie per avermi seguito Mario vs DC finisce qui vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto se volete sostenerlo in qualche modo e avete Amazon Prime potete usare il vostro abbonamento per fare una sub gratuita al mio canale Twitch che mi aiuta un sacco per fare quello che faccio grazie per chi è stato con me in questo pomeriggio un po' improvvisato e alla prossima alla prossima con Marvel vs DC e lunedì sera per lunedì lunatico anzi martedì perché questa settimana prossima sarà martedì più streaming a sorpresa forse un streaming a sorpresa forse venerdì venerdì potrebbe arrivare qualche sorpresa vediamo intanto grazie e alla prossima grazie a tutti